Puoi girare tutte le associazioni, tutte le associazioni, io sto parlando di un prezzo, cioè andiamo all'entra, se tu mi trovi una regola, cioè se tu mi trovi una regola. Ma una cosa, una cosa, allora se io ti voglio prendere per il culo, va bene, ti dico, sì io ce l'ho, però si è rotto, sto aspettando che mi arriva, o sto in riparazione, tu che fai? La tua parola contro la mia, o la mia contro la tua? Ti dico, non è lunedì, martedì, giovedì, perché me lo devono ridare, lo stanno mettendo a posto, ma non lo trovi, ti sto prendendo buco, le macchine, va bene, wow che dritto, wow che dritto, e poi ti fai una convenzione con le macchine incomodate a lusso, una macchina resti proprietà, perché è una cosa per vecchia quanto il mondo. Ma ti rendi pronto, perché alla fine tu passi come quello che non rispetta la convenzione, e non è così. Per me, per me c'è anche tanti. Tanti, anche se tra voi, tra voi c'è anche chi, tu sei una bravissima persona, c'è anche chi ci mette anche del dolo. È una macchina nuova che ho messo, non è colpa mia se non mi danno l'autorizzazione, c'è un'altra cosa. Ma io non ti posso dire perché parlo una firma che ci inviede a sei mesi. Io, se lavoro in un'azienda privata, ok, se ci metto sette mesi a fare un fatico, sai dove mi mandano? E hanno tutte le giuste cause del mondo. Se invece io lavoro in un'azienda, devo dare un'autorizzazione ad un'ambulanza nuova, che ho pagato un sacco di soldi, per cui ho già pagato sei mesi di assicurazione, perché ho già... Tutti, non a te, ci devo mettere sette mesi con calma, no? Con calma. Posso farle un esempio e vediamo se riesco a spiegare la mia posizione. Se io devo andare a fare una gara di macchine, ok, ed è una gara per Ferrari, ok, vado con una Lamborghini Mursi e Lago, che è pure più veloce della Ferrari, ma se la gara è per Ferrari, a me la Lamborghini Mursi e Lago non me la fanno nemmeno entrare nella pista. Se io adesso ho un infarto e voi mi soccorrete con il defibrillatore, io vivo, ok, sicuro, vivo. Questo defibrillatore ha 12 derivazioni. Questo no! Le 12 derivazioni, sai cosa ha detto? Per vedere, direttamente, e basta! Ce l'abbiamo fatto! E' finito! Non ti serve a niente! Non serve a un cazzo! Le 12 derivazioni servono solo, cazzo da metto! Ossi! Trasciato qua! E c'è lì! Ecco, fai ti, 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 ti! Ma prendo le casse, uso le casse, me li metto io, mi faccio una letta per dodo! Come vedete se ti lascio! Ma le persone ci vuole il manico buono! Tape! Poi, come vedete!